Grazie a tutti, oggi più che mai continueremo a gridare fuori la mafia dallo Stato e siamo giovani, ragazzi, provenienti da varie parti dell'Italia e del mondo, dalla Sicilia a partire da ora ci sarà un cambiamento, ma dipende solo da noi ragazzi è il nostro dovere, attraverso l'arte, attraverso le passioni, attraverso il ballo, il teatro, la musica noi denunciamo quelle che sono tutte le ingiustizie sociali, tutte, a partire dalla mafia, la criminalità organizzata fino ad arrivare al razzismo, al fascismo, a ogni tipo di discriminazione e di violenza che si vive in questa città, in questa regione, in questa Italia e in tutto il pianeta abbiamo sede in Italia, in Latino America, in Argentina, Uruguay, Paraguay abbiamo conosciuto persone, quelli che avete visto oggi, parenti di vittime di mafia ho conosciuto persone, parenti di desaparecidos, di persone scomparse durante la dittatura argentina torturate, uccise, come le nostre vittime della mafia ho conosciuto persone, amici, parenti dei miei compagni che sono morti nel Mediterraneo dei cugini, dei miei parenti, ho conosciuto persone e familiari dei vittime di tutte le ingiustizie che hanno subito e che sono morti sono stati uccisi da quello che è un unico sistema un unico sistema mafioso mondiale che sta continuando con il razzismo, con le mafie con il fascismo, con la discriminazione e con le violenze perciò noi, da giovani cittadini, ci opponiamo a tutto questo e lo facciamo da Palermo, presto avremo una sede qui a Palermo ci chiamiamo Our Voice, se volete cercarci e unirci a noi siamo qui noi siamo i giovani, il cambiamento, la rivoluzione e dobbiamo dirlo al nostro paese e in tutto il pianeta che i giovani sono la rivoluzione perché come dice Salvatore Allende ogni giovane che nasce è già il rivoluzionario di per sé è un'anima rivoluzionaria ed è nato per cambiare le cose e per fare rivoluzione rivoluzione, oggi e sempre, contro tutte le ingiustizie per questo ucciniamo a tutte le cause ambientalista, femminista, antifascista, antimafiosa tutte le cause, le vogliamo toccare tutte perché sono tutte unite per dire che noi siamo un unico popolo non esiste Sicilia, Marche, Friuli non esiste Argentina, Uruguay, Paraguay siamo tutti parte di un unico pianeta un unico popolo che si deve unire contro la violenza questo è il nostro messaggio ed è il dovere di ciascuna e ciascuno di noi e da giovani e carini siamo nati per questo e siamo qui per questo grazie mille a tutti speriamo che il messaggio sia passato cercateci a Wargost Antimafia 2000 grazie per aver organizzato tutto con noi